Carissimi amici e amiche, bentornati a una nuova puntata del ciclo di Catechesi sul Tenera Amata che certamente anche questa sera ci porterà parecchio in alto col cuore nelle vette del cielo e di ciò che ci attende dopo questa sosta in questa valle di lacrime, in questi viatori, nella quarta dimensione. Sicuramente faremo un altro giro nella quinta dimensione, ascolteremo tutta una serie di altre edificanti realtà. Ricordo che la volta scorsa abbiamo concluso sempre vedendo alcune spiegazioni di Tenera Amata sulla quinta dimensione spiegando come perdurano gli atti virtuosi ma i peccati perdonati e di cui ci si è pentiti vengono annientati. Il male morale abbiamo visto che è la sola cosa annientabile dalla creazione e che nella quinta dimensione tutto perdura tranne i peccati perdonati dal Signore. E abbiamo concluso con la bellissima frase di Tenera Amata che dice che il cristianesimo è la religione della gioia. Peraltro forse avrò dimenticato di dire, anche questo è una felice di incidenza, perché la precedente catechese è stata venerdì scorso, che era la vigilia dei primi vespri della Domenica della Gioia. Quindi abbiamo già avuto un'introduzione nella bellissima Domenica Gaudete che allieta particolarmente il tempo di avvento. Non vorrei dilungarmi troppo ma continuiamo subito la lettura riprendendo da dove ci siamo fermati. No, quindi Tenera Amata che afferma che il cristianesimo è la religione della gioia. Al che evidentemente Riccardo fa una domanda appunto pertinente. Dice che il cristianesimo è la religione della gioia. E Riccardo dice, e perché Dio permette che soffriamo? A causa del peccato del mondo, rispondete nella Amata, che include le tue proprie mancanze morali. Perché sebbene siamo stati redenti da nostro Signore Gesù Cristo, ogni uomo deve coprire la sua quota di dolore nel mistero della redenzione. Qui mi fermo subito, perché il dolore nacque con il peccato dell'uomo. Perché il male prodotto dal peccato, che è come una fabbrica di male, un generatore di male, può essere distrutto solo con la croce, cioè con il dolore offerto per amore. Non ci sono altri sistemi. Se ci sono altri sistemi, ha scritto anche qualche santo padre della Chiesa, il Signore lo avrebbe mostrato con i detti o con la parola. Ma come ci ha redenti il nostro Signore? Quindi la croce, che è l'albero della salvezza, per carità è il nostro simbolo per antonomasia, ma non è voluta dal Signore in modo assoluto. Dio non ci ha creato per soffrire, ma in modo relativo. Ora, essendo entrato il peccato nel mondo, la croce è indispensabile. Quindi Dio la vuole come? E noi non possiamo grogiolarci sul fatto che ci ha redenti il nostro Signore Gesù Cristo per pensare di poterne fare a meno, come qui sta dicendo. Abbiamo da coprire la nostra quota di dolore. E come si copre? Prosegue la lettura. Di conseguenza è più logico e più consolante che accetti i fallimenti, gli errori, le tribolazioni come eventi transitori di prova per meritare il cielo e come procedimenti didattici della Divina Providenza affinché rettifichi la tua condotta o come stimoli alla speranza cristiana di raggiungere l'affascinante gloria della Patria dove non si conoscono le frustrazioni né alcunché di negativo. Quindi vedete che bella catechesi. Qui non soltanto tenere l'amata afferma la necessità della croce ma anche il senso. Perché? I fini, meglio ancora, della sofferenza. Il primo è eventi transitori di prova per meritare il cielo. Il secondo è procedimenti didattici della Divina Providenza per rettificare la condotta. La lettera agli ebrei, no? È per la vostra correzione che voi soffrite. Dio vi tratta come figli quale padre non corregge il figlio. Ed infine come stimola la speranza di raggiungere l'affascinante gloria. Le sofferenze della vita presente, scrive San Paolo, non sono paragonabili alla gloria che dovrà essere rivelata in noi. E per quanto riguarda il primo aspetto, figlio, se ti presenti per seguire il Signore, preparate la tentazione, preparate la prova. Molte sono le prove che attendono il giusto, quel bellissimo Salmo, il 33, ma lo libera da tutto il Signore. Ecco, quindi, il cristianesimo è la religione della gioia, sì, ma gioia non significa assenza di dolore. Perché piacere significa assenza di dolore, ma gioia non è piacere. L'ho spiegato nelle omeglie di domenica scorsa, quindi, chi volesse approfondire, cos'era? 10 e 11 dicembre del 2022, può andare a vedere sul mio canale YouTube o altrove, nelle prattaforme dei podcast, l'approfondimento di questo aspetto, no? Ora, nell'accettare la quinta dimensione, proseguo la lettura, è necessario che tu modifichi l'immagine che ti sei fatta delle cose. La vera forma degli esseri durante la loro esistenza come tali non coincide con quello che attualmente percepisci di essi. perché la tua coscienza si trova legata strettamente all'istante attuale. Guardate quante volte ricorre questa espressione, no? Proprio per ricordarci la nostra la nostra bella galera a cui siamo legati con con la catena, no? Il remo dell'istante attuale. Nei corpi osservi soltanto ciò che adesso si avviene nel momento presente. È lì che contempli i loro cambiamenti che essendo successivi ti vedi costretto a studiare mediante artifici per aiutare la memoria, fotografie, descrizioni, schemi, grafici, computi. Ma non ti è possibile guardare lo stesso essere nello spazio-tempo che è appena trascorso e ancora di meno in quello che gli accadde un giorno fa o un anno fa. Ciò nonostante, attenzione, ricorda che ogni essere reale è la somma degli spazi-tempi corrispondenti a tutti i suoi atti di esistenza. Tutti. Obiezione di Riccardo. Ma se così fosse gli esseri si mescolerebbero nell'ambito dell'eternità creata perché nel trasformarsi una cosa la sua materia si impiega in un'altra cosa e in questo modo la medesima materia servirebbe per molti corpi diversi. dice Riccardo risponde tenera amata ed è così infatti ma senza nessun inconveniente. Per esempio il legno di un albero si trasforma in un tavolo e dopo in legna da ardere ma l'essere dell'albero e quello del tavolo e quello della legna da ardere non sono simultanei corrispondono a spazi-tempi differenti l'essere dell'albero fu anteriore a quello del tavolo e questo ha preceduto quello della legna capirai che nessun essere creato è assolutamente semplice e qui c'è proprio la differenza proprio lo scarto ontologico infinito tra l'ente creato che non è mai assolutamente semplice e invece Dio che all'increato leggete San Tommaso la prima caratteristica di Dio è l'assoluta semplicità per cui l'assenza di ogni tipo di composizione ontologica o metafisica questi sono un pochino complicati però si prendono per buoni in ogni creatura materiale si trovano diversi livelli o gradi di esistenza in questo modo nell'uomo c'è anzitutto il grado di esistenza come persona che è più alto cioè costituita di organismo totale ed anima spirituale ma c'è anche un altro grado di esistenza per esempio un livello di esistenza è quello cellulare vale a dire l'insieme di cellule viventi in un certo momento vi ricordate quante volte durante il corso della vita cambiamo completamente cellule chi ha seguito se lo ricorda io adesso pausa di suspense lo dico circa 6-7 volte perché si cambiano completamente ogni tot di anni proprio completamente arrivati a 50 anni 6-7 volte perché si cambiano completamente ogni circa 7 anni queste cellule sebbene dipendono dall'uomo intero però hanno una certa indipendenza nella vita particolare loro e possiedono proprietà diverse da quelle dell'organismo integrale poi c'è un livello di esistenza chimico dello stesso essere umano in un preciso spazio tempo della sua vita e c'è anche un livello energetico di detta persona corrispondente ad ogni istante del suo pellegrinaggio perché la nostra composizione chimica che è distinta da quella cellulare dipende da tutta quanto una serie di fattori faccio un esempio proprio sciocco la composizione chimica mia attuale dipende anche da quello che ho mangiato stasera a cena se avessi mangiato non lo sappiamo oppure se una persona si beve un po' di alcol è chiaro che dentro di sé c'è ora anche a livello chimico le molecole dell'alcol se è la sambuca o se il whisky o se il cognac d'accordo non è tanto tanto difficile capire queste cose qui no se mi è venuta la febbre ho preso un virus ho preso un virus di questi tempi non si può dire ho preso un virus dentro di me se vanno a fare l'analisi chimica complessiva ci sarà anche la struttura molecolare insomma un po' meno atomica di quel virus giusto e poi a livello energetico cioè le fasi metaboliche quindi quanta energia ho assunto oggi quanta energia sto consumando oggi quindi sapete che da questa proporzione dipende se dimagriamo ingrassiamo rimaniamo uguali eccetera no sono tutti quanti stati e livelli di esistenza che scorrono all'interno della stessa persona ma che sono certamente distinguibili e in parte anche autonomi e non dipendenti l'uno dall'altro è chiaro che il livello sovrano principale dell'essere umano è l'essere persona quindi attenzione ripeto è un organismo totale ed anima spirituale uniti tra loro ribatte Riccardo ciò significa che gli esseri si mischiano nella quinta dimensione dice si frammischiano ma non si confondono soltanto tra di loro hanno moltiplici rapporti di grandissima allegria poiché tutti noi esseri siamo vincolati da legami dell'amore universale non c'è confusione tra noi a causa della persistenza del nostro essere nella quinta dimensione e spiega ti ho già detto che ogni atto di esistenza ogni fenomeno perdura nel suo spazio tempo istantaneo ed esclusivo vorrei rifare l'esempio della volta scorsa ora sono le 21 e 49 del 16 dicembre 2022 quello che io sto facendo adesso quindi parlare di tenera amata perdura nello spazio tempo in cui lo sto compiendo non sto facendo adesso quello che facevo due ore fa non sto facendo adesso quello che farò tra un'ora ok di conseguenza non immaginare l'organismo integrale dell'uomo come un immenso esercito di corpi che convivono tra di loro nel medesimo tempo no perché gli atti di esistenza non sono simultanei accadono in spazi e tempi differenti e sebbene tutti gli stati corporali perdurano viventi come in un'interminabile fila indiana persistono spazialmente cronologicamente ordinati senza possibilità di comunicazione diretta fra di loro durante la vita mortale già che la coscienza umana è legata al momento presente dopo ti dirò come si relazionano tra loro gli spazi tempi dell'uomo glorificato quindi aspettiamo per ora ci basti capire questo fatto qui no? quindi gli spazi tempi con i relativi atti di esistenza non sono simultanei quindi non possono andare in questa vita a interferire l'uno con l'altro com'è allora la vera forma delle cose? chiede Riccardo la forma di qualunque oggetto differisce e vale molto di più della forma osservata nel momento presente è molto più estesa nello spazio per intuire il vero aspetto di una cosa nella tua mente dovresti stare aggiungendo la successione di immagini ad una ad una degli innumerevoli spazi tempi corrispondenti e gli atti di esistenza i quali si vanno aggiungendo cronologicamente segnando con tutta esattezza nell'eterna realtà oggettiva lo sviluppo storico evolutivo di tale corpo ti devi convincere che l'essere che guardi e il suo divenire completo che non puoi osservare formano un tutt'uno inscindibile reale e persistente Riccardo obietta probabilmente facendosi interprete di molti di quelli che stanno ascoltando è difficile immaginare una cosa in queste condizioni e te la ramata replica fa uno sforzo ad esempio per immaginare la terra nella quinta dimensione anziché rappresentartela come un gigantesco globo cerca di raffigurartela come una grandiosa cometa nella cui interminabile e maestosa coda si trovano reali viventi e dimutabili tutti gli esseri che l'hanno costituita e tutta la sua storia la forma di una palla è sferica nell'istante attuale ma nella quinta dimensione è sommamente allungata poiché corrisponde alla traiettoria di tutti i suoi movimenti la linea spirale è la prediletta dell'universo e bada che le immagini anteriori corrispondano alla cosmologia attuale non dimenticare che il mondo oggettivo del reale secondo quanto affermano le moderne teorie relativistiche non accade non succede non si annichila semplicemente esiste gli esseri si trasformano nel momento presente ma sussistono in columi nel passato attenzione adesso mai potrebbe scontrarsi il pianeta contro se stesso mi disse nel leggere l'obiezione della mia coscienza nonostante le esatte periodicità con cui percorre la sua orbita la recente teoria dell'universo in espansione queste sono tutte quante teorie scientifiche che sono andate sviluppandosi nel ventesimo secolo sostiene che sebbene le orbite dei pianeti si aggiustano con esattezza al calendario nessun astro ritorna a situarsi nello stesso posto sebbene tutti conservano la loro distanza relativa per il caso che ci interessa risulterebbe lo stesso con l'altra teoria dell'universo in ritrazione vuoi dire che quando metto una matita nello stesso posto che prima ero occupato da una penna sono in errore certamente certamente perché è trascorso un istante lo spazio tempo della matita è posteriore a quello della penna ma ognuno perdura senza fine nel suo corrispondente atto di esistenza ogni essere reale perdura per sempre sincrono con tutti gli altri al ritmo dell'orologio negli innumerevoli spazi tempi propri con tutto il suo divenire e senza pericolo di collisione con se stesso e con gli altri le collisioni avvengono soltanto nel momento attuale obietta Riccardo forse l'espansione dell'universo si deve alla quinta dimensione sì entrambe sono conseguenze dell'esatta armonia del cosmo per il momento hai bisogno di modificare le categorie mentali convenzionali soggettive e molto radicate che ti hanno suggestionato finora è necessario per fomentare il legittimo ottimismo nella tua persona e quello che ti circonda cancellare la falsa e angosciosa idea dell'annientamento del passato ti conviene invece per suscitare la speranza nella promessa divina dell'aldilà e perché tu viva in pace in questo mondo che apra lo spirito alla nozione dell'eternità creata o bellissimo questo termine magazzino perpetuo del tempo trascorso e Riccardo ancora obietta è difficile rinunciare a quello che si osserva che gli esseri finiscono definitivamente esempio ogni tanto faccio qualche esempio ci muore il nostro amato animale domestico è morto è morto è morto questo non ci sta più viene tagliato l'albero della mia casa natale che mi era tanto caro c'era l'altalena ci giocavo sempre sotto l'albero non c'è più questa è la nostra percezione allora tenera amata risponde considera che se qualunque essere si annichilisse oppure nel divenire temporale perdesse la sua forma anteriore nel trasformarsi attenzione nella mente di Dio resterebbe soltanto come un ricordo del passato qui attenzione qui ci sono delle finezze veramente straordinarie non ti pare che sarebbe il colmo attribuire attribuire al nostro Dio semplicissimo le circonvoluzioni cerebrali della memoria l'eternità creata è del tutto conveniente alla divina eternità assoluta qui Don Pablo fa opportunamente inserisce una nota l'onipotenza del creatore non saprebbe forse conservare nell'esistenza ogni cosa o atto esistenziale da lui creata ma lascerebbe che tutte le sue opere affondassero inesorabilmente nell'ungla al ritmo del tit-tact dell'orologio cioè che mano mano che scorre l'orologio tutto ciò che viene prima cade nel nulla per favore no ho sentito che Dio ci renderà partecipi della sua eternità assoluta nel cielo dice Riccardo appunto l'eternità creata è la partecipazione analogica della divina eternità assoluta perciò la quinta dimensione non è che comincia nel cielo è già con voi sulla terra quindi ogni istante del tempo ha un valore di eternità ricordate la frase del generale massimo al film il gradiatore no fratelli ciò che facciamo nel tempo riecheggia nell'eternità grande frase effetto quel piccolo capolavoro grande capolavoro insomma di questo bellissimo film no è vero ogni istante che noi facciamo non soltanto riecheggia nell'eternità ma crea l'eternità creata diciamo così fonda la costituisce la forma proseguo eh è ancora un'altra prova dell'esistenza dell'eternità creata un'altra non trovi strano che delle opere buone del tuo passato resti soltanto il loro merito innanzi all'altissimo e il ricordo nebuloso per te non credi che una cosa simile sarebbe il colmo del pessimismo mentre invece la certezza morale non l'evidenza assoluta perché non si può avere della durata senza fine del tuo essere completo e dell'essere delle persone e delle cose ti dà forza e speranza e mostra più congruentemente l'onnipotenza divina con ciò che accade nel tuo cammino di viatore non ti pare strano per esempio che le scene dei grandi misteri della cristiana non esistano più attualmente se invece accetti l'eternità creata la storia della salvezza perdura vivente senza fine ed è così già qualcuno mi scrive ma quando saremo morti possiamo possiamo vedere possiamo vedere la vita di nostro signor Gesù Cristo ovvio certo che sì possiamo vedere l'esodo certo che sì possiamo vedere la consegna dei dieci comandamenti a Mosè sul Sinai ma certo che sì perché perché la storia della salvezza perdura vivente senza fine noi per noi è passato per noi e in questa dimensione viatrice che sia passato è un fatto reale ma l'essere passato non vuol dire essere annientato e cadere nell'oblio quindi aver perso l'essere e rimanere sussistente soltanto come ricordo non è così peccato che ancora non ti sia possibile dice Teneramata contemplare la grotta di Betlemme il sermone della montagna il cenacolo la croce della tua redenzione glielo sta dicendo lei stessa peccato che non ti sia ancora possibile ma queste cose non abita nessun dubbio che le vedremo tutte quante come era fatto il cenacolo come è stata l'ultima cena questo bellissimo film se vogliamo chiamarlo così ma non è un film è un docu film caso mai sta lì pronto per essere ammirato da tutti quelli che escono dal carcere del tempo se vogliamo chiamarlo così dalla prigione della quarta dimensione dove siamo appunto incatenati a questa galera e volando via allora cominciamo a muoversi dentro l'eternità creata e andiamo dove vogliamo evidentemente favoriti da Dio che in nulla e per nulla contrista i buoni e legittimi desideri dei suoi figli che raggiungono la beatitudine e qui Riccardo si arrende hai ragione l'eternità dell'eucharistia e l'eterno riposo dei fedeli defunti sono idee religiose che depongano a favore dell'esistenza della quinta dimensione ciò nonostante della lamata muoiono le persone care la giovinezza se ne va si perdono le ricchezze si rompono gli oggetti preferiti pensate quando rompiamo un oggetto caro o quando qualcuno che lavora in casa nostra rompe un oggetto caro l'ha rotto ma non l'ha rotto è che da un certo momento non c'è più qui nel tempo ma nell'eternità creata c'è ancora che preoccupare ma quella cosa era una cosa talmente bella era un vaso prezioso era una lampada tanto bella tallista non la vedi più nell'istante attuale pazienza non succede niente non succede e infatti tenera la madre risponde questa è l'apparenza niente altro ciò ti dà appunto un'altra prova della perenne esistenza degli esseri permetterebbe il signore che tanto ci ama un desiderio legittimo legittimo per poi lasciarlo eternamente insoddisfatto il nostro Dio non dà e toglie i beni naturali mai si pente dei suoi regali ti racconto un mio aneddoto quando morì mio figlio il più piccolo di tre anni di appena tre anni io ero desolato nella mia disperazione dicevo al nostro Dio perché me lo hai dato perché me lo hai dato se così presto me lo dovevi togliere ecco la frase che qualunque essere umano mortale con non ancora molto formato nella fede direbbe all'altissimo mai mi risollevai da questa pena nella mia vita mortale ma dopo che fui glorificata il Signore mi portò a quegli spazi i tempi critici del mio passato mi consolò teneramente come soltanto lui sa fare mi fece vedere la convenienza della morte prematura del mio caro figlio e lo mise vivo e splendente nelle mie braccia non te lo tolsi disse all'altissimo l'ho solo preso in prestito in questo modo che era debolissimo il ricordo del mio dolore materiale restò più che consolato e ciò grazie alla persistenza delle persone in tutte le loro età di sviluppo e delle cose proviamo a pensare a questa cosa pensiamo ai momenti di grande sofferenza della nostra esistenza di grande dolore di quando avremmo come dice la scrittura è successo anche al nostro Signore sulla croce cercavo consolatori ma non ne ho trovati e sono rimasto solo nel mio soffrire a volte magari anche incompreso senza nessuno che ci desse quella gioia del Cireneo perché quando soffriamo noi cerchiamo qualcuno che condivida la nostra sofferenza che la porti con noi è bello nostro Signore sta dicendo guarda che tu adesso offrimela è necessario ti fa bene nell'eternità creata poi ci torniamo insieme a quei momenti e lo so io come ti consolerò questo sta dicendo tenerla amata bello no? è un'altra prova ancora dell'esistenza dell'eternità creata il vehemente desiderio che la bellezza e l'amore siano immortali questo ci appassiona a tutti se noi siamo belli desideriamo che questa bellezza perduri nel tempo immortale se viviamo una bella storia d'amore oppure se abbiamo intorno persone che ci amano desidereremmo che queste non finissero mai normale questo qui e quindi guarda tutte le creature siamo specchi del creatore quando ci comportiamo rettamente orbene l'amore dell'altissimo è incompatibile con le frustrazioni definitive che significa? significa c'è una persona che ti ama potrebbe morire e quindi morire vuol dire che questo desiderio di infinito di quell'amore sarà frustrato è una frustrazione temporanea sta dicendo che è una madre temporanea offrirai quella sofferenza torniamo da dove siamo partiti oggi a causa del maledetto peccato la offrirai volentieri ma tu sai bene che quell'amore non è finito è soltanto un po' sospeso nella tua percezione sensibile attuale solamente fallisce per sempre il peccato senza perdono divino questo sì dunque la bellezza l'amore e gli esseri che li sostengono devono perdurare senza tramonto nella quinta dimensione è vero alcuni poeti cantano l'eternità con quella che ci attende non con quella che ci attende ma l'attuale e tu invece rispondete l'amata per un equivo che con discendenza alla fragile testimonianza dei tuoi sensi resisti a credere nella logica persistenza di tutti gli esseri è tanto vigoroso il desiderio dell'eterità creata essendo un'esigenza del vero che persino il linguaggio allunga la mano della sua grammatica verso la quinta dimensione il presente storico e il passato prossimo sono desiderio furtivo di perpetuità forse in futuro si imporrà la verità e si penserà e si parlerà in termini di quinta dimensione per adesso prima del cambiamento di mentalità voi adoperate i verbi inesatti come perdere annientare accadere a cui siete molto abituati ma che non corrispondono a realtà oggettiva poco a poco tuttavia a seconda che si riconoscerà la grandissima importanza dell'eternità degli esseri si cambieranno i modi di agire e di parlare per quanto non sia un affare profico non è un affare profico perché non ci guarda niente nessuno a fare questa cosa no? e così passiamo al capitolo 17 sì abbiamo tempo di quantomeno introdurlo un po' non lasciavo di osservare il mio corpo di bambino qui adesso ritorniamo alla scena di San Luis Potosì paralizzato accanto al pianoforte con mia grandissima meraviglia curiosità e qualcosa come amor proprio al mio prolungamento corporale infantile ti piacerebbe constatare disse ad un certo punto tenera amata guardate che roba qui che tu e quel bambino siete la stessa persona provate a immaginarvi la scena insomma l'esperienza di quest'uomo provate a che so se ti pose l'uccesso a te ti ritrovi a un certo punto fuori del tempo comune vedi una scena della tua infanzia la rivedi ma in questo modo e vedi i fotogrammi bloccati perché stai appunto in milioni di milionesimi di picosecondo quindi vedi un'immagine fissa però sai bene che quella cosa tu l'hai vissuta però Riccardo sta vedendo questa cosa dall'alto dei suoi 50 anni suonati ampiamente suonati quindi io e quel bambino siamo la stessa persona Riccardo scrive pensai che lei forse avrebbe permesso un colloquio tra me e il bambino ma allora come avrei dialogato con me stesso anche se delle volte ho fatto i miei monologhi che meraviglia adesso avrei dialogato con me stesso comunque rispondo sì naturalmente sì bene attenzione qui ma prima voglio spiegarti che la tua unica anima si bilocherà attenzione a livello di coscienza a livello della coscienza cioè vado ad operare coscientemente in due spazi tempi diversi nei tuoi due corpi ovviamente la tua anima sostiene la vita in tutte le tappe dello sviluppo biologico che giacciono nella quinta dimensione ma senza che tu ne abbia coscienza capite cosa sta dicendo la mia anima la tua anima sta sostenendo tutti quanti gli spazi i tempi del nostro corpo integrale da quando siamo stati concepiti fino ad adesso qualcuno forse ne è cosciente che la nostra anima sta facendo questo lavoro domanda retorica ovviamente no? quindi sono tantissime le operazioni che vengono fatte da Dio e anche dalla nostra anima al di fuori della nostra coscienza quindi non so se l'altra volta in questa sede forse sì ho come dire arringato di brutto contro la cosiddetta filosofia della coscienza che è nata con Cartesio e che ha segnato il pensiero filosofico ininterrotto perché anche tutte quante le filosofie o pseudo filosofie che girano adesso praticamente la filosofia della coscienza culmina con l'idealismo ideale e con l'idealismo hegeliano quindi il vero è solo irrazionale ciò che è intelligibile che è poi un'ultima come dire ulteriore tappa di sviluppo estremo del pensiero degli illuministi no? ciò che viene dopo Hegel è la reazione a questo gigantesco sistema filosofico e quindi la progressiva il progressivo attacco e tentativo di smontare pezzo per pezzo questa gigantesca conclusione scusate costruzione filosofica quale quella hegeliana e questo che cos'è? è l'ultimo stadio di sviluppo della filosofia della coscienza del cogito ergo sum ma non è vero affatto perché il mio essere è completamente dipendente dal cogito proprio la mia anima adesso sta animando i miei spazi tempi precedenti cioè quello che facevo a tre anni a due anni a quattro anni a un anno a cinque anni salvo gli spazi tempi buttati nel peccato e che non siano stati sigillati dal perdono e adesso non vorrei mettere troppa carne al fuoco magari anche rifatti nella divina volontà per farli redivivere e avere quindi più spazi tempi in cui godere nell'eternità creata quindi attenzione la bilocazione significa che uno stesso essere spirituale animo umano o spirito angelico attua coscientemente in due luoghi differenti allo stesso tempo oppure questa è la bilocazione umana è quella di padre Pio attuare coscientemente in due luoghi differenti allo stesso tempo e questo chiaramente è possibile soltanto per un miracolo dell'altissimo noi non possiamo per forza propria in questo mondo attuare in due luoghi differenti allo stesso tempo impossibile però c'è un'altra forma di bilocazione cioè attuare in due spazi tempi diversi che è quella proposta da teneramata a riccardo quindi attuare è la stessa persona non che attua coscientemente in due luoghi diversi in contemporanea però ma in due spazi tempi diversi si può fare anche questo figurate se a Dio è qualcosa impossibile no? la tua bilocazione in questo caso non sarà simultanea perché tu tenendo conto che 48 anni separano i tuoi due corpi ma sarà in due spazi tempi diversi devo dirti la bilocazione umana non è esclusivamente spirituale poiché in essa oltre l'anima partecipa anche attenzione l'energia biologica del corpo che all'anima è consustanziale e inseparabile da essa la bilocazione cosciente e la multilocazione sono fenomeni assai frequenti nella vita celeste a noi beati permettono di godere nuove sensazioni molto piacevoli capite? i beati si bilocano e si multilocano anche multilocano capite che significa bilocare significa e sicuramente i beati possono farlo in entrambe le dimensioni cioè possono contemporaneamente fare cose differenti in maniera cosciente contemporaneamente senza che l'una altra attività si disturbino e così come possono multilocarsi in spazi tempi differenti contemporane non deve questo farci stupire perché c'è una partecipazione reale dell'eternità di Dio voi pensate che per Dio Dio è ininterrottamente presente tutto e dappertutto e tutto immediatamente soggetto al suo potere Dio è l'immenso presente in cielo e in terra in ogni luogo è chiaro che un'anima beata una persona meglio impareremo a dire beata partecipa di questo e quindi qui in una vita non possiamo fare né l'una né l'altra prima di tenere l'amata quello che conosciamo con certezza Padre Pio è il caso più famoso ma non è l'unico sono i casi di bilocazione cioè nello stesso spazio tempo si attua contemporaneamente in due luoghi differenti pensate quando San Paolo dice che Cristo risorto apparva più di 500 fratelli in una volta sola non è in una volta sola nel senso che erano tutti quanti insieme no ma è che nel medesimo istante nel medesimo spazio tempo è comparso a 500 persone differentemente sparse riunite ma come ha fatto se lo sapessimo come ha fatto staremo già in paradiso noi possiamo capire che cosa ha fatto e che il potere divino può darti la possibilità di farla come non è la nostra portata figlio dei nostri cari figlio dei miei cari no la bilocazione si dà anche agli animali o meglio si dà anche negli animali al modo intellettuale ovviamente no non lo possono fare perché perché l'anima degli animali non è spirituale cioè non è capace di riflettere e di amare come lo fa l'uomo tuttavia in un modo inferiore esclusivamente energetico sì che avvengono comunicazioni a grande distanza tra gli esseri viventi irrazionali la loro anima immateriale è dotata di grandi poteri cosicché obietta Riccardo anch'essi hanno delle premonizioni in un modo molto inferiore a quello delle persone ma sì che le avvertono non voler ridurre l'universo alla vita terrestre che conosci alla materia e alle energie esistono moltissimi altri elementi ancora io non li conosco tutti quanti ma potrei accennarti la sopra energia e la infra energia attenzione che qui Teneramata sta dicendo che molti 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 elementi che caratterizzano l'universo gli sono ignoti la sopra energia e l'infra energia molto comuni di esse te ne parlerò più avanti l'anima degli organismi inferiori all'uomo non mai potrà conoscere direttamente il nostro dio né lo possiederà con amore supremo come viene né beati ma attenzione ma attraverso l'uomo glorificato attenzione che come il sacerdote delle creature razionali la materia e le energie i vegetali e gli animali riceveranno la loro felicità ecco perché per esempio San Paolo scrive la creazione geme e doglie fino ad oggi nei travagli del parto essa non è la sola ma ad attendere la redenzione come noi che gemiamo attendendo la pienezza della nostra adozione filiale avvenuta col battesimo cioè la redenzione della nostra vita e del nostro corpo l'uomo glorificato è il sacerdote delle creature irrazionali che vivono nella quinta dimensione e proprio lì saranno glorificati a modo loro bellissima questa immagine l'uomo glorificato è il sacerdote delle creature irrazionali cioè quello che è il compito di trasmettere attraverso alcune modalità specifiche qualcuna poi è l'amata più avanti fa gli esempi agli animali che non possono non potranno mai conoscere direttamente il loro creatore non possono fare perché ci vuole l'anima spirituale per questo loro hanno solo l'anima immateriale abbiamo già spiegato nelle volte precedenti ma noi però potremo trasmettergli fondamentalmente dei godimenti e delle cose belle che vengono da Dio in quanto sacerdoti del mondo creato vorrei dire che vorrei dire che vorrei dire che vissero perché la maggior parte di loro non è scomparsa gli animali no di essi sta parlando e risponde anche essi passarono per la quarta dimensione o tempo e morirono ma non dimenticare che esistono che vivono per sempre nell'ambito dell'eternità creata per esempio vedi quella mosca che è vicina al vetro più alto della finestra si trova in atteggiamento di volare anche se per adesso non si muove lei vive in questo preciso spazio tempo e senza saperlo attende proprio qui di essere glorificata ciò che ti dico di questa mosca serve lo stesso per quel cane all'andaggio che è straliato sul marciapiede si applica anche alla materia di questa finestra e di tutta la casa di questo isolato e di tutta la città l'amore universale che relaziona le cose create tra di loro e le relazioni con loro creatore si realizza interamente nel cielo attenzione una finestra una finestra la finestra amici miei questo lo sappiamo oggi con certezza cosa c'ha c'ha gli atomi no la letizia la letizia sopranaturale come vediamo è una questione di fusioni tra atomi e quindi la finestra che evidentemente gli atomi della finestra che non c'hanno un'intelligenza ma sono comunque parte della grande opera della delegazione bramano di unirsi agli atomi miei o tuoi al momento della rifrequentazione diciamo così di quel certo spazio tempo della quinta dimensione che sarà possibile per nessun altro dopo la morte evidentemente no vorrei dire che la maggior parte di loro è scomparsa dice e risponde anche essi passarono per la quarta dimensione o tempo e morirono ma non dimenticare che esistono che vivono per sempre nell'ambito dell'eterinità creata per esempio vedi quella mosca che è vicino al centro della finestra si trova in atteggiamento di volare anche se per adesso non si muove lei vive in questo preciso spazio tempo e senza saperlo tende proprio qui di essere glorificata ciò che ti dico di questa mosca serve lo stesso per quel cane l'andaggio che è stariato sul marciapiede e si applica anche ho riletto tutto quanto il capoverso perché mi sembra importante alla materia e energia di questa finestra di tutta la casa di questi isolati di tutta la città l'amore universale si realizza integralmente nel cielo ma quando saranno glorificate chiede Riccardo se ti dico il rapporto il rapporto se ti dico il rapporto all'anno che stiamo vivendo ti dirò che sarà un giorno ma se ti rispondo dall'eternità creata ti assicuro che stanno ricevendo una glorificazione fino al limite della loro capacità naturale ricorda che il passato presente futuro attenzione sono nozioni puramente soggettive anche se necessarie dei viatori ebbene in virtù dell'amore universale e molteplice del cielo il beato vive la sua gloria occidentale godendo e facendo godere le creature inferiori quindi attenzione non solo rivedremo i nostri animali domestici che qualcuno ogni tanto continua a chiedermelo ma li rivedremo per farli godere molto più di quanto li facciamo godere adesso c'è un cagnolino c'è un gattino ogni tanto sapete che cagnolini i gattini i cani sono sempre pronti io ci ho avuto tutti e due a un cane se gli fa una carezza in qualunque momento qualunque cosa che stia facendo ti si strofina di cose invece i gatti sono un po' differenti quando li prende bene fa tutto quello che vogliono se li prende male c'hanno voglio oppure non c'è un'atmosfera che li ispira non li vogliono sono fatti così sono diversamente sono bellezze diverse ma io sapete quante volte ci penso glielo pure dico scherzando dico caro gatto caro gatto tanto si fortunato come sarà essere glorificato nell'eternità precreata da un prete adesso con tutto adesso non è che voglio fare il superbo ma un prete insomma cioè io sono anche sacerdote quindi non siamo sono soltanto sacerdote del creato sacerdote sacerdote io lo sto accarezzando con le mani consacrate amici cari ci penso a ste cose guardate che un touch con la mano consacrata non è come un touch con la mano senza consacrata e quindi che cosa si andrà a godere a rivivere quella creaturina tanta roba quindi guardate adesso cosa fa poi chiudiamo è affascinante che tutti noi esseri ci troviamo vincolati da legami reciproci del gradevolissimo amore universale per soddisfare la tua curiosità ti faccio adesso una dimostrazione glorificherò la morte la mosca che è presso la finestra ecco una spiegazione la mia bella beata si fece avanti un po' che vicino al dito indice all'insetto che con le ali spiegate sembrava volare ma che si trovava immobile la mosca incominciò a svolazzare attorno al dito era entrata nel nostro paratempo capite era evidente la gioia dell'insetto vezzeggiava con le zampette e il dito di tenera mano uno potrebbe pensare alla mosca che schifo no dall'altra parte non esiste che schifo fate gli esempi il serpente a sonagli la compenetrazione col serpente a sonagli uno potrebbe saltare dalla sede io il serpente a sonagli per carità a me mi fa ripreso soltanto vederlo adesso mi fa ripreso soltanto dopo non sarà così allora la mosca comincia a svolazzare era evidente la gioia vezzeggiavo con le zampette il dito di tenera amata e si voltava all'insù carezzandolo con le ali senza timore come se avessi dimenticato la crudeltà dell'uomo l'animale si affratellava con la bella abitante del cielo all'improvviso la mosca scomparve tenera amata però senza muovere il dito continuava sorridendo la sto glorificando gli dice ma no la mosca è volata via no no non se n'è andata è dentro il mio dito la sto compenetrando amorosamente per procurarle la felicità di cui essa è capace infatti la mosca si fece visibile e si afferrava al dito di tenera amata si aggrappava con tutte le sue zampe col corpo con la proboscide e perfino con le ali tese ed oblique attaccate alla pelle del dito con l'altra mano tenera amata rimise la mosca al suo posto di prima a fatica riuscì a fare che l'insetto si distaccasse e restasse esattamente nello stesso posto questa mosca di tenera amata aspetterà eternamente nella quinta dimensione nuove e migliori glorificazioni che le verranno dal resto del cosmo d'accordo con i disegni dell'altissimo e lei corrisponderà a sua volta spiegando effusivamente i doni naturali che le diede il nostro Dio possiamo fermarci oggi amici quindi come sempre credo tantissima roba venerdì prossimo sarà l'antivigilia di Natale ma noi ovviamente ci saremo perché quale modo migliore per prepararci santamente al Natale di un'altra bella prosecuzione di lettura di questo bellissimo resto che ci porta credo ogni giorno di più sulle ali di ciò che sarà la beatitudine in qualche modo anticipandola nella rappresentazione che di essa ci consente di fare bene amici una santa notte a chi ha seguito la diretta e a tutti Dio vi benedica e la Santa Vergine sempre vi protegga